In condizioni pessime, alla mattina presto e in condizioni pietose. Parco Sartori si presentava così questa mattina. Passata l'estate, dicono alcuni residenti che hanno preferito non farsi riprendere, tutto è tornato alla normalità. Una normalità che fa rima con bivacco. Ma guardi, ma quella è panna. Il ritrovo, ci racconta qualcuno, che di questa situazione non ne può più, inizia alle 4 del pomeriggio per terminare verso le 10. Queste panche gialle, già divelte a giugno, dopo solo un mese dalla posa e subito aggiustate dall'amministrazione, fanno parte di un progetto del comune per favorire comunione, integrazione e perché no fare una merenda. Una merenda però, non appunto un bivacco che è un'altra cosa. E poi si dovrebbe procedere alla pulizia senza lasciare rifiuti. Ovvietà, per alcuni, per altri no. Senza colpevolizzare un gruppo piuttosto che un altro, diciamo pure che l'inciviltà è trasversale. I residenti si lamentano poi di come il parco sia maltenuto. E poi non sappiamo neanche dove sederci. perché mancano panchine. Ci sono maltenute che poi andrebbero più che ripitturate, rimesse. Perché hanno delle schegge che uno si rompe i calzoni. Cremona è proprio messa male.